Musica Musica Sotto Tappo! Siamo di Telebration International! Stiamo facendo un sondaggio! Chi è il re delle creche? Non c'è! Maria! Quello è l'ultimo! Cresce! Ma questi più con i greci? Questi più! Scusate un saluto per favore! Ciao Creppo! La scopo! Puoi tenere lo scopo! Ora! Quello che sono i cinti dici! Cosa che raccoglie che accoglie? come tutti gli anni non c'è un anno che non ti riprende tu riprendi e poi a pesare il tuo archivetto io, povera te, non ti ho pensi di cuore il signore è già mai riconosciuto il tuo passeggio qui quanti sei messo qua a badare? no, alla fine non vengo mai mi faccio due o tre feste fuori sono allergico a pagare assai oh, ma non la faccio qui ma non ti piace, sembra già piace hai visto come dice sempre? che piace sempre ciao 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 ciao